Vade retro Zuckerberg Amici di Playmaster Movie ben ritrovati con il Tecno Ribelle Un americano a Roma, Milano, Torino e Siena Nessuna vacanza maccheronica all'Albertone Ma le tappe per transumanizzare l'Italia Dopo lo sbarco di Klaus Schwab A Palazzo Chigi è infatti arrivato pure Mark Elliott Zuckerberg di Meta Cioè Facebook, Instagram e Whatsapp Con Vittorio Colau da Mario Draghi Ricevuto come un capo di Stato nel cuore delle istituzioni nazionali Lontani i tempi in cui un'altra America finiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri Foto e strette di mano tra Robert Kennedy e Amintore Fanfani Ora selfie emoticon e 3D sotto la guida dei migliori Perché dopo il guru di Davos teorico del microchip nel cervello dell'uomo del futuro Dalla Silicon Valley è approdato nella capitale Chi per il resto della nostra vita ci vorrebbe con un visore ottico a realtà aumentata Smartwatch e palmare atipico Cioè come tecno zombie isolati e senza anima Clonati nel nuovo mondo liquido Senza relazioni sociali Immersi nel virtuale espanso In una vita parallela tridimensionale Priva di identità Chiusi dentro casa Camuffati da avatar Come nel Tamagogy Con blockchain e criptovalute Per viaggiare in digitale Fare riunioni, pranzi e cene Allenamenti, vedere film Concerti, partite di calcio Entrare in banca al nightclub Fare sesso Studiare, giocare Fare shopping E persino lavorare Insomma Tutto e di più Solo nel metaverso Dove un'isola con heliporto Costa 160.000 euro I nativi digitali sarebbero pronti Già da tempo A lasciarsi alle spalle Il vecchio mondo E a tuffarsi in un universo Fatto di realtà aumentata E intelligenza artificiale Delineato il punto di non ritorno Assicura la Repubblica Un'ora al giorno Nel metaverso Ecco cosa ci aspetta E come potrebbe cambiare il mondo Del lavoro Proseguefinanza.com Per un'Italia Sempre più terra di conquista Di razzie E spericolate Sperimentazioni Per l'inedito Minaccia All'essenza E all'esistenziale Mentre Maurizio Landini Della CGL Invoca L'affermazione Di un nuovo ordine mondiale Nell'avanzata Della disoccupazione Tecnologica Per cambiarci Consumi Usi E costumi L'esperienza immersiva Del metaverso Si stringe con Prada Tots Diesel Moncler Ferragamo Luxottica E John L. Cannes Poi da Mario Draghi Replicato Quanto nel 2012 Già dall'allora Premier Mario Monti Finito Al Sound Valley Festival Con Zuckerberg Eric Schmidt Di Google Jeff Bezos Di Amazon E Dick Costolo Di Twitter Ricambiata La visia Di Bill Gates Nella stanza Dei bottoni Di Palazzo Chigi Equiparato Evidentemente A sede sociale Del gruppo Bilderberg Perché L'agenda Del governo La dettano Ormai Le multinazionali Le hit Neoliberiste Della Globalizzazione Transumana Cioè I noti Filantropi Del terzo millennio Architetti Di ingegneria sociale Senza Consenso Popolare Zuckerberg A Draghi Collaboriamo Per portare L'Italia Nel metaverso Titola Rai News Draghi Incontra Zuckerberg Ecco come Le eccellenze Italiane Potranno essere Valorizzate Nel metaverso Prosegue Il Corriere Della sera Sviando Però Come Un sondaggio Stadunitense Dica Come Una vita Da avatar Sia Ripudiata Da Un americano Su tre Spaventato Dal futuro Artefatto Mentre I restanti Due terzi Non hanno Minimamente Idea Di cosa Sia Il metaverso Relegati Gli Eccitati Tecno Ottimisti In una Sparuta E Irrisoria Percentuale Minoritaria Di nerd Ci Ci Hanno Già Inchiodati Con Il distanziamento Sociale E La Tecnogabbia Dad Smart Working Green Pass E Adesso Il metaverso Non esiste Tutta Fuffa Quello A cui Stiamo Assistendo È La Più Grande Campagna Di Marketing Basata Sul Nulla Degli Ultimi Anni L'obiettivo Di Facebook È Infatti Farti Passare Più Tempo Possibile In Questo Piccolo Mondo Controllato Da Loro E Ancora Il Progetto Annunciato Da Zungeberg Per Far Evolvere Facebook È L'ennesima Forma Di Colonizzazione Delle Vite Che Prende Spunto Dai Videogame E Dalle Piattaforme Per il Lavoro Da Remoto La Silicon Valley Ha Una Lunga Storia Di Grandi Sogni Non Realizzati E Allora Allora Stacci Lontano Giovane Miliardario Più Ricco Al Mondo Perché Qui In Italia Oltre Al Kit Di Sopravvivenza Con Acqua Santa Aglio E Paletti Per Purificarci Dalle Energie Negative Abbiamo Pure Il Rituale Della Fumicazione Salvia Bianca E Palosanto Sul Sacro Palatino Bade Retro Zuckerberg Per Approfondimenti E maggiori Dettagli Vi rimando A Stop 5G Salute Ambiente Geopolitica Privacy Transumanesimo Controllo Sociale Libro Inchiesta Sui Lati Oscuri Del Futuro Digitale Terra Nuova Edizioni Oppure Sul Sito Di Aggiornamento Naturale www.osisana.com Ricordandomi Come questa Pillola Tecnoscettica E condivisa Anche Dalla Casa Del Sole TV E sui Canali Di Come Donkey Shot Appuntamento Alla Prossima Puntata Del Tecno Ribelle E un Caro Saluto A Tutti Da Maurizio Martucci Prossima 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 Prossima